Inadeguato, inefficace, poco convincente sono gli aggettivi con i quali viene definito il decreto del rio sul riordino dei sistemi portuali italiani nel documento di Confindustria Nazionale. Quel documento stamani era stretto forte nelle mani del presidente di Assotutela Salerno Agostino Gallozzi, che si dice pronto ad integrarlo anche con le sue considerazioni, ma soprattutto deciso a trovare sostegno alla sua battaglia contro la creazione di un unico sistema portuale per la campagna. Secondo il principio che ha consentito a tre regioni, Liguria, Puglia e Sicilia, con vocazioni marinaresche meno forti della campagna, di mantenere due autorità portuali, Gallozzi si è detto convinto ancora al 100% di poter salvare l'autonomia del porto di Salerno, che non è una battaglia di campanile. Gallozzi lo ha ribadito mostrando la mappa dei nuovi collegamenti che grazie alla sua compagnia, la Salerno Container Terminal, uniranno lo scalo salernitano al nord Europa, Australia, la Cina e l'India. Due tra le più importanti compagnie di navigazione mondiali, la francese CMA e la tedesca APAC Lloyd, hanno scelto di far tappa a Salerno, in un porto, che nonostante ancora alcune difficoltà oggettive, in primo luogo la necessità di intervenire sui dragaggi, continua a crescere, piazzandosi al sesto posto in Italia per movimentazioni merci. Ma le imprese che crescono devono essere sostenute dalla capacità istituzionale di accompagnare e porre al centro delle azioni lo sviluppo. Purtroppo in Italia non è sempre così, ha sottolineato Gallozzi. La lotta della Campania, quindi non di Salerno, ma la lotta della Campania dovrebbe essere quella di mantenere due autorità portuali anche nella nostra regione. Se ci sono riusciti altrove, valutando altrove, che questa scelta fosse più coerente con la crescita, lo sviluppo e la competitività, io penso che anche in Campania ci sia questa percezione. Quindi non è un discorso che fa Salerno, è un discorso che Salerno pone alla regione Campania e la regione Campania, confrontandosi con le altre grandi regioni marineresche italiane, ha percepito e deve portare avanti. Presidente, due domande. Come continuerà la battaglia anche attraverso la sottutela e laddove, anche se lei dice ci sono speranze ancora fino al 100%, laddove non dovesse raggiungere l'obiettivo, cosa farà la SCT? Si domandano tutti. Gallozzi lascia il porto di Salerno? Diciamo che lasciare il porto di Salerno non è proprio tra le cose che abbiamo in mente. C'è un legame fortissimo tra noi come impresa e la città di Salerno, d'altra parte il fatto che la nostra azienda si chiami Salerno, con tenere termine, non si chiami in altro modo, è proprio un segnale di questo legame fortissimo. Ci sentiamo impresa di questa città, siamo presenti a Salerno dal 52 e ci saremo sicuramente per tanti altri anni. E' chiaro che è necessario però che le imprese come la nostra, ma come tutte le imprese, siano accompagnate da un sistema istituzionale che favorisca non soltanto l'insediamento, ma anche il mantenimento e lo sviluppo delle attività, che sono la premessa per l'occupazione, altrimenti è inutile la lamentazione sulla disoccupazione particolarmente giovenile. C'è bisogno di fare impresa, c'è bisogno di accompagnare le imprese e da questo punto di vista la sollecitazione all'istituzione è molto forte.